Facciamo una giornata di festina ne facciamo una semplice, non difficile io proprio lo voglio fare ma fatto così proprio ogni mattina bisogna fare stai un po' a sinistra che lo vado a fare? geometra non so nel posto dei geometri quattordicesimo non mi capiti anche a faggio non sono tecnico, sono capo ufficio personale come fai di cognome? padre allora io tra le tante cose di cui mi occupo c'è la salvaguardia anche di Fortini Fortini dalla seconda guerra mondiale brava Angie e spesso e volentieri ti potresti anche ruottare capita che qualcuno ne voglia demolire allora ci mettiamo di mezzo a noi e rompiamo le balle e qualche volta ci va anche bene anche più di qualche volta poi ce n'è cosa, vero? poi ce n'è cosa, vero? si a me ha fatto così e di più non mi sono girata non volare mai eh? le gallerie le gallerie dell'esercito la seconda guerra mondiale anche a quelli rifugi eh eh vieni eh ti è arrivata a piano e notte? vorrei vedere qualcosa ma poco fa che cosa succede? venite a sinistra e non fa niente tutti lì a sinistra guardate dietro l'altra a sinistra eh ho capito a sinistra eh facciala arrivare a sinistra ti sto tirando? e adesso vedi un minuto per esempio che cosa c'è e lì c'è l'albero a sinistra arrivi nel piano è rotto occhio che il cespuglio è protetto non roviniamo il cespuglio non fa la fine dell'altro non roviniamo il cespuglio vieni qui a scelare wow e vai ehi eh tu ti fa? qui l'ha fatto, non l'ha fatto il su bella su, bello no Angela Occhio di cui c'erano pietre è un casino, eh? Allora, queste sono le scherpe che ho misurato l'altro giorno che vengo a comprare.